Eccoci qua, eccoci qua, il quartetto c'entra. Loro, il quartetto dei Lombardi 2, la Vendemia, che sono tornati qui a festeggiare Halloween al convento di Lonato Ribregio. Allora, iniziamo tra le ragazze, i vostri nomi? Barbara, poi abbiamo Lara, Yuri, Stefano e Stefano. Allora, da dove venite? Vai, ognuno ripartiamo al giro, città? Mantua. Mantua. Una Brescia. Cremola e Brescia. Cremona. Bergamo e Brescia. Bergamo e Brescia. Ah, ok. Allora, che canzone cantiamo, donne e uomini di Halloween? Un pugno di sabbia. Vai, un pugno di sabbia. Che sapore c'è, che sapore c'è, di tornare con te. Brescia. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.